La gravidanza è un momento particolare per la vita di una donna, è un momento in cui la futura mamma fa di tutto per poter proteggere quello che sarà appunto il frutto della gravidanza, il suo bambino. Cerca di mangiare bene, smette di fumare, smette di bere, però una cosa che probabilmente non si sa, durante la gravidanza si può fare ancora di più. Per esempio ci si può vaccinare, ci si può vaccinare per proteggere non soltanto se stessi ma soprattutto per fornire al nuovo nato la protezione nei confronti di importanti malattie infettive come l'influenza e la pertosse. Ovviamente essendo un momento particolare è importante anche comunicare bene l'importanza di questa vaccinazione e soprattutto cercare di sfatare dei miti come per esempio quello che in gravidanza un vaccino potrebbe essere pericoloso. No, ci sono dei vaccini che non solo non sono pericolosi ma sono molto importanti sia per la salute della mamma che per la salute del nascituro, appunto per tosse ed influenza. La comunicazione corretta è importante anche perché purtroppo molto spesso le future mamme non si rivolgono al proprio medico per ottenere informazioni ma magari vanno a cercare su internet e su internet davvero si può leggere di tutto. Si può leggere per esempio che in gravidanza, così come non si possono prendere alcuni farmaci, i vaccini in generale sono assolutamente vietati. No, ci sono dei vaccini che non vanno fatti in gravidanza, ci sono altri appunto come per tosse influenza che devono essere fatti. Per sfatare questi miti appunto che questi vaccini sono inutili, sono pericolosi o che possono essere sostituiti da un corretto stile di vita, no. Per proteggere il bambino da influenza e per tosse bisogna vaccinarsi, non ci sono metodi alternativi. Ecco, per ottenere questa informazione corretta è molto importante rivolgersi al proprio medico.